Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi torniamo a parlare delle stampanti A3, più precisamente delle stampanti multifunzione A3, qua oggi vorrei fare una recensione della Brother MFC J5910DW, una multifunzione pensata per gli uffici o comunque le aziende per stampare fino al formato A3 anche in fronte retro, questa è una cosa che è comunque abbastanza notevole perché per quanto riguarda le stampanti domestiche si possono trovare molte stampanti anche multifunzioni anche della Brother domestiche che stampano in A3, sono molto più compatte di questa però non stampano in fronte retro in A3 e possono consentire soltanto il caricamento di singoli fogli di carta in A3, questa invece è una stampante che accetta la stampa senza interruzioni in formato A3 anche fronte retro, quindi è una cosa un po' diversa rispetto alle comuni multifunzioni domestiche per quanto riguarda la stampa in A3. Come potete vedere adesso che insomma la stampante ha abilitato la modalità dell'espermio energetico abbassando la luminosità del display, il display si può vedere molto meglio anche in video, è un display a colori LCD che è veramente di piccolissime dimensioni però è comunque molto comodo o comunque molto meglio rispetto al display tipico a monocromatico due linee di testo che è veramente scomodissimo in multifunzione del genere. Da questo display abbiamo la possibilità di impostare le varie impostazioni della stampante e anche le impostazioni di ciò che vogliamo fare come ad esempio copia, scansione, fax e anche stampa fotografica, soprattutto stampa di fotografie perché per quanto riguarda la stampa diretta da memoria USB o memory card come scheda SD, memory stick eccetera vogliamo vedere almeno quale fotografia stiamo per stampare e quindi insomma è sicuramente molto molto più comodo avere a questo punto un display LCD a colori. Ma non vorrei diciamo parlare di cose estremamente ovvie in questo video. Quindi parliamo subito di che stampante è per chi è pensata. Allora questa è una stampante che come ho già detto è pensata per gli uffici o le aziende comunque in quanto è una stampante anche troppo potente per l'utilizzo in abitazioni. Certo la può comprare anche chiunque ha la necessità di stampare in A3 in modo diciamo domestico fatto sta che è un po' overkill nel senso sarebbe comunque una stampante ottimale per chi si stampa in casa ma ha bisogno di stampare molto. Il motivo per cui dico che questa non è proprio una stampante ottimale per l'utilizzo domestico è anche per le dimensioni. Questa stampante è abbastanza ingombrante è praticamente di 51 x 46 x 26 cm quindi sebbene come altezza sia abbastanza compatta come larghezza profondità è tutt'altro quindi non è che sia proprio la cosa ottimale avere un dispositivo del genere su una scrivania o altre insomma quindi bisogna tenere conto che per l'utilizzo domestico ci sono molte altre opzioni anche molto più compatte un po' meno potenti ovviamente. In ogni caso questa è una stampante che supporta la stampa e qua mi riferisco al formato A4 ovviamente fino a 35 pagine per minuto in monocromatico e 27 pagine per minuto a colori è una velocità di stampa estremamente elevata questa però ovviamente è la velocità di stampa in qualità bozza quindi è la massima velocità che possiamo ottenere. Per quanto riguarda la stampa in qualità laser invece abbiamo una velocità di stampa di 12 pagine per minuto in nero e 10 pagine per minuto a colori che è abbastanza buona per una stampante del genere non è proprio la migliore velocità di stampa al mondo per un dispositivo di questa fascia di prezzo però è comunque abbastanza buona mentre la risoluzione a cui possiamo stampare arriva fino a 6000 x 1200 dpi è una risoluzione veramente molto alta. Ora una cosa da tenere in considerazione quando si vuole acquistare una stampante in formato A3 è non soltanto la dimensione massima che possiamo appunto stampare ma anche la dimensione massima su cui possiamo effettuare scansioni infatti la maggior parte delle stampanti come tra cui anche questa può stampare fino al formato A3 ma non può scansionare in A3. Questa stampante ha uno scanner che è limitato sia per la dimensione fisica del piano ma anche dall'ADF al formato A4 quindi non possiamo scansionare in A3. Questa è una cosa da tenere in considerazione perché molte persone, mi è già successo molte volte, che acquistano una stampante in A3 e poi si ritrovano nel problema diciamo che pensavano che lo scanner potesse scansionare in A3. Non è assolutamente questo il caso. Possiamo effettuare copie da A4 a A3 quindi possiamo ingrandire le copie che andiamo a scansionare per stamparle fino al formato A3 però questa è un'altra cosa. Quindi c'è da tenere in considerazione che appunto lo scanner è limitato alle dimensioni di un foglio A4. La stampante in questione consente anche di connettersi agli altri computer della rete tramite diverse modalità di connessione abbiamo principalmente la connessione tramite USB, tramite Wi-Fi e abbiamo anche la possibilità di connetterla tramite Ethernet quindi è una cosa molto comoda e estremamente usata dalle aziende. Possiamo collegarla tramite Ethernet alla nostra rete e possiamo quindi accedervi da tutti i computer disponibili in rete. La connessione tramite rete è una cosa molto comoda soprattutto in dispositivi di questo tipo in quanto insomma abbiamo la possibilità di metterla in una qualsiasi parte dell'azienda o eventualmente anche dell'abitazione che è fornita soltanto di energia elettrica quindi non abbiamo la possibilità di connetterla tramite USB in lunghe distanze però in rete possiamo ovviamente farlo. Per quanto riguarda la stampa direttamente da smartphone e altri dispositivi mobili la stampante può essere utilizzata da smartphone con l'applicazione apposta di Brother però oltre a questo possiamo anche utilizzarla in modalità cloud printing quindi possiamo collegarla a servizi come Google Cloud Print e Apple Air Print per renderla disponibile anche in appunto stampa in cloud quindi questo si applica sia a computer che anche dispositivi mobili ovviamente. Un'altra cosa molto importante di cui parlare è appunto le cartucce che vengono supportate da questa stampante. Questa stampante supporta delle cartucce come vedete anche sul coperchio frontale della stampante le LC 1240 e le LC 1280 XL. Le N1240 che sono le standard supportano la stampa fino a 600 pagine in nero e 600 pagine a colori che non sono comunque per niente poche mentre le XL stampano fino a 2400 pagine in nero e 1200 pagine a colori. Anche qui sono veramente tantissime pagine che possiamo stampare con un singolo set di cartucce. Ovviamente però non soltanto per il fatto che una stampante ha delle cartucce che stampano moltissimo significa per forza che sia effettivamente conveniente e basta pensare ai toner delle stampanti Lexmark per farci un'idea. Per questo bisogna controllare il costo per pagina delle cartucce e per darci un'idea del costo per pagina delle cartucce mi riferirò al prezzo di listino di queste cartucce quindi direttamente acquistabili dallo store brother ufficiale. Ovviamente questo non significa che non potrete trovarle a meno anzi sicuramente le troverete molto molto a meno su molti altri siti però per farci un'idea questi sono i prezzi che potremmo appunto riscontrare come costo per pagina quindi costo per singola pagina stampata e ovviamente mi riferirò al formato A4 per questo test diciamo. Le cartucce del nero in capacità standard quindi 1240 costa 30 euro e 59 stampa 600 pagine come abbiamo detto quindi abbiamo un costo per pagina di 5,1 centesimi che è veramente molto basso. Per quanto riguarda le cartucce a colori invece abbiamo 19,56 euro per tre cartucce e diciamo che teoricamente ogni cartuccia stampa 600 pagine però si intende se stampate soltanto con uno dei tre colori e insomma nella maggior parte delle stampe a colori tutti e tre colori vengono usati in diverse misure però vengono usati tutti e tre quindi anche se probabilmente il costo per pagina che andrò a ottenere è leggermente più alto di quello che in realtà è farò che tutte e tre le cartucce vi stampano 600 pagine quindi abbiamo un costo per pagina di 9,7 centesimi che è abbastanza basso comunque. Ora qua abbiamo il primo problema però il multipack di quattro cartucce standard non ha senso perché costa 87,66 centesimi ci consente di stampare quindi 1200 pagine e quindi abbiamo un costo per pagina di 13,7 centesimi quindi non ha molto senso effettivamente vabbè per quanto riguarda invece le XL qua la stampa comincia a essere estremamente più conveniente parliamo di delle cartucce del nero che costano 44,04 euro e ci consentono di stampare fino a 2400 pagine come abbiamo già detto quindi abbiamo un costo per pagina di appena 1,8 centesimi è veramente pochissimo penso che sia la stampante che ho recensito finora che riesce a ottenere il costo per pagina più basso in assoluto per quanto riguarda la stampa in nero con cartucce originali per quanto riguarda invece le cartucce XL del colore abbiamo 26,91 euro per tre cartucce che stampano 1200 pagine quindi abbiamo un costo per pagina a colori di 6,7 centesimi quindi anche qua veramente molto basso il multipack XL costa 121,90 euro e ci consente di stampare fino a 3600 pagine quindi abbiamo un costo per pagina di 3,4 centesimi che è abbastanza cioè veramente molto basso devo dire detto questo penso che abbiamo già detto tutto per quanto riguarda i consumabili originali per quanto riguarda invece le cartucce compatibili qua l'unica cosa su cui dobbiamo fare attenzione è che siano cartucce di buona qualità però sì possiamo utilizzare anche delle compatibili e infatti del resto qua ho attualmente delle cartucce non originali inserite queste cartucce si trovano a dei prezzi estremamente bassi quindi fino a meno di 10 euro per un singolo set di cartucce di alta capacità quindi sì so che è una cosa che tenta molto ripeto potete usare cartucce non originali fatto sta che devono essere cartucce di alta qualità perché sennò potrete fare veramente dei danni al dispositivo quindi questo è tutto per quanto riguarda tutto ciò che vado a dire su questa stampante adesso passiamo ai test di stampa per vedere un attimo sia la velocità che anche la qualità di stampa che possiamo ottenere e poi terminiamo praticamente questo video per questo test andrò a stampare due pagine in qualità bozza e due pagine in qualità laser che sono praticamente composti da una parte in testo in nero e una parte con delle immagini che sono praticamente i miei foglietti di richiesta feedback di ebay quindi sono dei semplici documenti che una persona potrebbe pensare di poter stampare con questa stampante quindi cose abbastanza generiche quindi iniziamo subito con la stampa in qualità veloce quindi la stampa in bozza avviamo la stampa di due pagine per questi test avvierò la stampa tramite wireless questo può essere un motivo di rallentamento per stampanti che appunto hanno un limite alla velocità di ricezione dei documenti wireless quindi motivo in più per testare la stampante a fondo insomma quindi questi sono i miei documenti stampati in modalità stampa qualità veloce adesso avviamo la stampa dei due documenti sempre in qualità normale quindi la qualità laser avviamo quindi la seconda stampa e come possiamo vedere comunque non è affatto male come velocità di stampa ok quindi adesso che abbiamo stampato entrambe le versioni diciamo di questo documento confrontiamo un attimo le due pagine stampate quindi la qualità bozza quindi la qualità veloce e la qualità normale quindi qua abbiamo appunto la qualità veloce sulla parte alta come potete vedere comunque non ci sono grandi differenze tra le due l'unica cosa che possiamo notare più che altro è per quanto riguarda le immagini hanno un colore un pochino più sbiadito ma nemmeno così tanto in realtà sono entrambe molto molto simili quindi non c'è tutta questa grande differenza almeno per quanto riguarda questo test sulla stampa dei documenti tra le due qualità di stampa quindi sì ritengo comunque che per una questione di velocità se uno vuole stampare la velocità più elevata può anche mettere la qualità di stampa su veloce in quanto non è così male e quindi per documenti che non sono troppo importanti insomma ci sta assolutamente di mettere questa questa qualità di stampa quindi questo è tutto quello che avevo da dire per quanto riguarda la Brother MFC J5910DW io spero che vi sia stato utile questo video per ogni eventuale domanda vi resto a disposizione nei commenti se vi è stato utile lasciate un mi piace condividetelo con qualcuno e iscrivetevi al canale se volete insomma altri video per quanto riguarda stampanti e multifunzione quindi detto questo grazie e ci vediamo al prossimo video